inizio il video questo verso puoi capire del perché no allora ieri era il compleanno della mia compagna e quindi prenoto per fare un regalo su un ristorante stellato tre stelle michelin quindi andiamo là ci sediamo questo poi vai in due ma mangi sempre in z8 perché tra i camerieri che te mette la sedia che te sposta la forchetta grazie che te mette l'acqua non ciò si vabbè comunque mangiamo tutta roba buona buonissima forse anche troppo buona per le mie papille gustative perché il mio palato tanti sapori non le percepisce tant'è che qualcosa anche devo dire che proprio non sono riuscito a apprezzare la piedra ma magari è un problema mio non lo so e arriva il momento del conto prima che vada a pagare guarda questo è un omaggio della nostra del nostro ristorante le diamo questa la piglio e pago quant'è che 7 e 30 no di guarda il 7 e 30 non l'ho fatto mai e non 730 euro prego e sappiamo che il 7 e 30 chiamo un attimo il commercialista me lo faccio fa il volo non ferma poi guardo quello che mi hanno dato aceto perché perché questo adesso io lo stappo e lo sniffo se no io mi sturbo mi accaccio qui sul tappeto come 7 e 30 7 e 30 che stanno a dire stamattina sono andato in farmacia appia un antidepressivo subito e poi ho detto signora guardi a me mi occorrerebbe qualcosa per trattenere cioè signor io non devo cagare dottoressa io non devo cagare almeno per una settimana non fanno cazzate perché con quello che ho speso fra una settimana voglio fare una cagata tre stelle merdenne e mi voglio stare dentro il bagno da solo con la televisione che meriviglia mentre mi annusso tutti i sapori che mi sono maniato non voglio cagare una settimana che c'ho l'essaurimento nervoso con i spasmi rega non è possibile di cosette tanto era meglio lo pollo mi ricorda un pollo che ho comprato una settimana fa prego dico no non si preoccupa io fra un bollastro e oggi dico sono nato a fallito proprio io chiude tutto ho chiuso tutti i conti correnti che ciò basta rega non mi rompete più li coglioni ma che cazzo stiamo a parlare